Come sta? Ho il cancro. Per questo è il reparto oncologia. Qui tutti hanno il cancro. Se vuole compassione, vada al reparto. Qui crepano tutti di salute. Anzi, guardi, ce la porto subito. Sta molto male o può camminare? Ma lei è un medico? Ricoverato oggi. Primo giorno di un ciclo di chemio di cinque giorni. Sì, può camminare. Su, andiamo. Il dottor Wilson sa che lei è qui. Se non lo sapesse, portarla via sarebbe stupido. Perché non trovando il suo paziente, magari penserebbe che è stato rapito. La camera di sopra è più grande. Ce la teno via a cavo e le infermiere sono molto più carine. Se sta male, chiami me direttamente. Non il dottor Wilson. Sta facendo l'ultimo ciclo di iniezioni e di ormoni. Le hai dato il tamoxifen, un farmaco contro il tumore? Blocca i ricettori degli estrogeni. Blocca anche la respirazione e la funzionalità renale. La stanno rianimando. Non vuol dire che ho sbagliato.